Musica Fri a fai a tutti io sono Octi di Pure Pibra Italiana e in questo video vi auguro buon Natale a tutti perché oggi che vedrete il video sarà il 24 e quindi molto probabilmente o magari più in là quindi in ogni caso sarà il 24 Ho deciso di sfidare una mia iscritta che non aveva il pass battaglia ad una partita a parco giochi se fosse arrivata fino a 10 punti cioè mi avrebbe ucciso 10 volte io le avrei shoppato il pass battaglia alla fine purtroppo abbiamo abbassato a 5 punti perché 10 erano veramente troppe ma questo non importa perché in ogni caso nonostante le mille vicissitudini nonostante il fatto che lei fosse da switch e io da pc nonostante il fatto di altre cose alla fine abbiamo fatto una bella partita Avrà vinto oppure no lo scoprirete guardando il video fino alla fine non passate avanti col video perché sennò siete dei maledetti furbetti ma non è bello così detto ciò buona visione e ringrazio tutti colori di voi che mi stanno supportando come un creatore nello shop grazie mille Allora Harley tu sei una mia iscritta immagino ma ovvio ma ovvio allora tu mi hai detto che non hai il pass battaglia della stagione 7 no ok Si non ce l'ho molto bene allora siccome siamo in periodo natalizio e siccome tu sei la mia preferita e lo sai ho deciso che ti regalerò il battle pass se vinci una partita contro di me a parco giochi Ok sei pronta E quanto ti devo battere? Fino a 10 Fino a 10 E' un po' esagerato però Perché dici? E' vero vabbè ma io andrò piano chiaramente Ma tu mi supporti come un creatore nello shop immagino Ovvio Ok Se io dovessi shopparti la roba tu dovresti darmi il tuo account io entro col tuo account ti shoppo il pass ok quindi tu hai la password e l'email immagino Allora io la password Ora le regole sono le solite di parco giochi quindi io quando modifico questo facendo questo buco qua tu corri da una parte o dall'altra e iniziamo a buildare una mini torretta poi Insomma ci costruiamo e iniziamo a fightare Che armi hai tu? Quindi io ti rivelo le mie armi e tu mi riveli le tuve Allora io ho una K Ho il fucile a pompa quello grosso insomma quello lì Ho la mitraglietta Ho la Desert Eagle E ho delle granate Puzzolenti Fammi vedere Io ho il P90 Il suo calibro Scarseliziato Barrette Ok molto bene Allora sai bene le regole Bisogna arrivare a 10 Magari ci fermeremo anche prima Quindi per forza torre No ma tipo in che senso torre? Sì è inserito che bisogna prendere una torre per forza oppure no Beh ma non sai come si fa di solito Che tipo si corre Ci si builda un po' E poi si gira e si inizia a sparare all'altro Lo so Lo so Va bene E se arrivi a 10 Ti shoppo il pass battaglia che non hai Quello di questa season Tanto hai ancora due mesi e mezzo per farlo E basta che fai le missioni vecchie Io l'ho finito in due giorni Quello della season 5 Ecco appunto Si Ho fatto un livello perché una missione non riuscivo a farla Esatto Quindi Sei pronta? 3 2 1 Via Allora corri Tipo verso così E poi ti giri E si inizia a combattere Hai capito? Quando vuoi Io sono pronto Ci sono Ricordati che c'è il danno da caduta Ricordatelo No Quanto non ti ho preso Ah ma Hai capito Hai capito Hai capito Va bene E vabbè Beccati queste cose E vediamo un po' Cristo 1-0 Ho vinto No non hai vinto No Cristo che spavento Allora Sei pronta? 3 2 1 Via Vai vai Round 2 E vediamo Cavolo mi sono preso un sacco di danni da caduta Accidenti Dai dai Adesso vedrai Ah pensavo di curarti Vado Brava Oddio 2-0 direi io Eh ma Ma di questo passo Mi sa che Qua il Il passo Lo scioppiamo Però E beh Bisogna impegnarsi un po' di più Mi sa qua 3-2 1 Via Vai 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 Ok Sì Va bene Va bene Grazie Va bene Così ma da qui ci cominci te Eh vediamo un po' Vediamo un po' Allora Ma dove vai? Ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma cosa fai? Ma cosa fai? Guarda quanto build C'è proprio una buildatrice Eh ma qua siamo sul 3-0 però mi sa eh Eh beh Mi sa proprio Mi schifo Il grosso calcolo mi fa schifo Perché dici? Ma è il mio o il tuo intendi? Non lo so Quale non ti piace? Il mio o il tuo? Il mio Ok Allora vuoi che facciamo cambio? Il vero è ancora di più così Perché? Perché Tieni Ti do questo No Grazie aspetta Ok Va bene Torniamo alle nostre postazioni I mazzi Sì anch'io dovrei fare i mazzi Sei pronta? Guarda ci guardiamo la finestra Balliamo un po' Ok Sei pronta? 3-2-1 Via Vai 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 Builda 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 Io che cambero Ma che Oh ma che pensi di fare qua? Oh il tato Alleluia Dove? Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma cosa pensi? Oh hai capito? Ma invece? No 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 Qua la cosa si fa un po' problematica Oh Cristo 4-0 Attenzione 4-0 Quanto hai stato lasciato? 21 di vita Vabbè È un colpo ci morire Eh adesso Adesso praticamente Hai one shot one kill Quindi se mi shoti una sola volta Ai ai Cioè mi uccidi Anche con la mitraglietta Aspetta un attimo Ho già perso Ok ok Non è vero Non è detto Non è detto Aspetta un attimo Dove vai? Cosa fai? Allora Andiamo 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 Ma sei altissima Ma perché vai così in alto? Ma perché? Non lo so Non mi trovi? Ma no Sto mirando Ok È l'ultima Siamo 4-0 Ed è l'ultima Attenzione Stavolta devo trapparti Quindi E ho 21 di vita Ero in un cespuglio Eh però Vedo che la sfida qua Ha Ero in un cespuglio Ero in un cespuglio 4-0 5-0 Puglio il misiste 5-0 5-0 5-0 8-0 5-0 Dai ma adesso ti puoi chilarmi con gli armi? no e direi che ti ho proprio trappato stavolta con pochissimi moz con pochissimi materiali però ti ho trappato quindi insomma sei triste perché niente pass battaglia? si appunto eh vabbè però siccome è lo spirito del natale io magari te lo regalo lo stesso come regalo di natale no? che cosa ridi? aia allora non sei contenta che ti regalo di pass battaglia? comunque si perché se vuoi non te lo regalo grazie io te lo regalo di natale no 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 ti prego regalo me lo no vabbè se dici che la password vabbè quella te la ricorderai appena te la ricordi io te lo shoppo eh ma dimmi le tue impressioni 500 euro dovrai dirmi se sei contento oppure no sembri così si senza lo sbattaglia non mi sento tristezza non sembri chissà che felice perché? non lo so perché ho perso però vabbè vabbè ma sei da switch e io da pc non male che tu abbia più difficoltà e poi io sono un pro player di Fortnite uno dei migliori altro che power 4 powers eh power può accompagnare solo esatto e quindi sei contenta di questa sfida oppure no? si dai così si dai così cosa? così così ma perché così così? non lo so parato parato va bene allora Harley ciao oh senti una cosa no non puoi ciao 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 ciao